Lavoratori delle agenzie fiscali, enti pubblici, ministeri, autonomie locali, igiene ambientale, sanità, terzo settore, vigili del fuoco, polizia penitenziaria e polizia locale, riuniti a Barletta per scegliere il nuovo segretario generale della FP CGLBAT, i componenti della segreteria provinciale, il comitato direttivo e l'assemblea generale. Un'occasione anche per ripercorrere il lavoro svolto partendo dagli obiettivi raggiunti fino ad arrivare a quelli mancati analizzando le battaglie svolte e quelle da svolgere.